leggiamo adesso un racconto di isa casimov il cui titolo originale sarebbe il miglior amico di un ragazzo il cui titolo dato nell'edizione pubblicata in italia di questo racconto il fedele amico dell'uomo e il cui titolo che diamo noi è il miglior amico dell'uomo dov'è Jimmy cara chiese il signor Anderson sul cratere disse la signora Anderson non gli succederà niente c'è robotolo con lui è arrivato sia la base d'atterraggio dei razzi lo stanno sottoponendo ai vari test a dire la verità anch'io non vedo l'ora di vederlo non ne ho visto più di uno da quando ho lasciato la terra 15 anni fa se escludo le immagini dei film che però non contano Jimmy non ne ha mai visto uno disse la signora Anderson perché è nato sulla luna e non può visitare la terra è per questo che ne ho fatto venire uno qui credo sia il primo che mette piede sulla luna è costato parecchio disse la signora Anderson con un breve sospiro non è che costi poco nemmeno mantenere robotolo disse il signor Anderson Jimmy era sul cratere come aveva detto sua madre secondo il metro di valutazione terrestre era un ragazzino esile ma abbastanza alto per i suoi dieci anni aveva braccia e gambe lunghe e agili sembrava più grosso e tarchiato con la tuta spaziale indosso ma nella gravità lunare si destreggiava molto meglio di qualsiasi persona nata sulla terra quando Jimmy tendendo le gambe spiccava il salto del canguro suo padre non riusciva neanche lontanamente a stargli dietro il lato esterno del cratere scendeva verso sud e la terra che era bassa nel cielo a sud dove si trova sempre vista da lunar city era quasi piena sicché tutto il pendio era vivamente illuminato il declivio era dolce e Jimmy nonostante il peso della tuta non pote resistere alla tentazione di slanciarsi in su con un grande balzo che gli fece sembrare inesistente la gravità vieni robotolo gridò robotolo cui la voce del bambino giungeva attraverso la radio guai e si buttò a rincorrerlo per quanto esperto Jimmy non riusciva a battere robotolo che non aveva bisogno della tuta e aveva quattro zampe e tendini d'acciaio robotolo con un salto sorvolò Jimmy fece una capriola e atterrò quasi capovolto non esagerare con le prodezze robotolo disse il bambino e non allontanarti dalla vista robotolo guai di nuovo con quel guaiito particolare che significava sì non mi fido di te birbante gridò Jimmy e spiccò un ultimo salto che gli fece superare l'orlo arrotondato del cratere e lo portò sulla parete interna la terra scomparve dietro la cima del pendio ed un tratto intorno al bambino fu buio pesto un'oscurità calda e amichevole che se non fosse stato per le stelle luccicanti avrebbe cancellato del tutto la differenza tra il suolo e il cielo in realtà Jimmy non avrebbe dovuto giocare lungo il lato buio della parete del cratere gli adulti dicevano che era pericoloso ma lo dicevano perché non ci andavano mai il terreno era liscio e friabile e Jimmy sapeva bene dove si trovassero le poche rocce presenti e poi come poteva essere pericoloso correre nel buio quando c'era con lui robotolo che saltellava e guaiiva e faceva luce tutto intorno anche senza luce avrebbe potuto dirgli dove si trovava e dove era lui stesso con il radar a Jimmy non poteva succedere niente finché aveva accanto il suo amico che lo bloccava quando capitava troppo vicino a una roccia gli piantava le zampe addosso per dimostrargli il suo affetto e si aggirava qui e là senza posa uggiolando piano e fingendosi spaventato quando Jimmy si nascondeva dietro un masso la cui ubicazione robotolo conosceva benissimo una volta Jimmy si era messo a giacere immobile dando ad intendere di essere ferito e robotolo aveva suonato l'allarme radio facendo arrivare in gran fretta la gente di lunar city il padre di Jimmy aveva rimproverato robotolo per quello scherzetto e Jimmy si era ben guardato da ripeterlo proprio mentre stava ripensando a queste cose il ragazzo sentì la voce di suo padre sulla sua lunghezza d'onda personale Jimmy torna a casa una cosa da dirti Jimmy si tolse la tuta spaziale e si lavò bisognava sempre lavarsi quando si veniva dal di fuori perfino robotolo doveva farlo ma gli piaceva se ne stava rito sulle quattro zambe col piccolo corpo lungo una trentina di centimetri che luccicava la testa senza bocca due grandi occhi vitri e il bernoccolo contenente il cervello che tremava un poco guaiva insistentemente finché la signora Anderson diceva buono robotolo abbiamo qualcosa per te Jimmy disse il signore Anderson sorridente adesso si trova alla base di atterraggio ma l'avremo qui domani dopo che i test saranno terminati ho pensato di dirtelo fin da ora qualcosa che viene dalla terra papà sì figliolo un cane un cane vero un cucciolo di terriesco sese il primo cane che sia mai arrivato sulla luna non avrai più bisogno di robotolo sai non possiamo tenerli entrambi e robotolo andrà a qualche altro bambino fece una pausa come aspettando che Jimmy dicesse qualcosa poi continuò sai che cos'è un cane Jimmy è l'originale la creatura vera robotolo è solo un'imitazione meccanica un botolo robot e da lì che viene il nome Jimmy aggrottò la fronte robotolo non è un'imitazione papà è il mio cane non è un animale in carne ed ossa Jimmy è solo acciaio fili e semplice cervello positronico non è vivo fa quello che gli dico di fare papà mi capisce davvero è vivo no figliolo robotolo è solo una macchina è stato programmato a comportarsi come si comporta un cane invece vivo veramente non sentirai la mancanza di robotolo dopo che avrai visto il cucciolo al cane occorrerà una tuta spaziale no sì naturale ma varrà la pena spendere i soldi che costa e vedrai che il cane ci si abituerà e poi non ne avrà bisogno dentro lunar city ti accorgerai della differenza quando l'avrai qui Jimmy guardò robotolo che aveva cominciato a coire piano molto piano come se fosse spaventato tese le braccia e robotolo gli corse incontro che differenza c'è tra avere robotolo e avere il cane disse Jimmy è difficile da spiegare disse il signor Henderson ma te ne accorgerai subito il cane ti amerà sul serio robotolo è solo condizionato ad agire come se ti amasse ma papà non sappiamo mica cosa c'è dentro il cane o quali sono i suoi sentimenti forse anche lui finge il signor Henderson ha grotto la fronte Jimmy capirai la differenza quando avrai visto con i tuoi occhi cosa sia l'affetto che ti può dare un essere vivente Jimmy strinse forte al petto robotolo anche lui come il padre era corrucciato dall'espressione determinata che gli si leggeva in viso si intuiva che non avrebbe cambiato idea disse ma che differenza fa tra il comportamento dell'uno e quello dell'altro e non pensi a quello che sento io voglio bene robotolo ed è solo questo che conta e il piccolo botolo robot che non era mai stato abbracciato così forte in tutta la sua esistenza e mise una serie di rapidi aguti guaiti guaiti di felicità di farina di aver guardato il nostro coraggio